Facciamo come le altre volte in maniera davvero molto informale e questa sera presentiamo questo testo di Marco, La crepa dell'essere, un testo che credo sia davvero molto interessante perché pone molte questioni, da molti impulsi, soprattutto su un tema che è stato trasversale in diverse nostre presentazioni delle ultime volte, cioè il tema del cristianesimo nella contemporaneità, la possibilità che si ospitino a vicenda, per usare un termine caro Marco. Ma per fare questo facciamo in maniera abbastanza similare le ultime volte, quindi io lascerei la parola prima a Kurt Apple di Vienna che salutiamo e dopo darei la parola a Marcello e Marcello Neri che interagiranno con Marco che a un certo punto prenderà a sua volta la parola. Se rimane un po' di tempo, come spero, c'è la possibilità di porre alcune domande, alcune questioni. Come diceva prima Valentina, abbiamo visto che funziona essere così rigorosi e quindi finire intorno alle 19.30. Ebbene, lascio subito la parola a Kurt. Buonasera, sono contento di essere con voi e di stato invitato da Marco per parlare sul suo libro che per me, come dice già Donnerio Castellucci nella prefazione, qualche volta un po' difficile perché è così ricco anche non solo di contenuto ma anche di forza espressiva, da leggere un libro molto 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 bello che davvero vale la pena essere letto e essere pensato. Si vede già all'inizio che Marco fa una sintesi oggi secondo me molto molto rara nell'ambito teologico ma generalmente e da un lato prende come fonte due dei filosofi più importanti degli ultimi decenni, Jean-Luc Nocy, da cui ha la figura della soglia, e dall'altro Giorgio Agamben, che anche se in Italia è un po' contestato, ma diciamo su un livello mondiale è sicuramente tra i direi cinque filosofi più seguiti che vivono, da cui ha la figura della soglia, scusa da non sia la figura della dischiusura, e poi quasi mette in dialogo questi due filosofi con il Vangelo di Giovanni. Già questo mi sembra una cosa straordinaria che proprio sta anche scoprendo la potenzialità filosofica, la potenzialità del pensiero del Vangelo. Non è una cosa solo per il catechismo, una cosa solo per la Chiesa, ma è una voce potente anche oggi. Marco nella sua introduzione ha tante frasi bellissime, ma c'è una che voglio leggere perché secondo me dà molto bene un po' il suo impetus, proprio l'eros che sta proprio mettendo avanti Marco nel suo pensare, nella sua teologia. Questa frase si trova nella pagina 33. Marco scrive a ben guardare il fuoriuscire come sangue e acqua, e qui si riferisce al Vangelo di Giovanni, il capitolo 19, versetto 34, quando da Gesù morto sul crocifisso, escono il sangue e l'acqua come simboli di battesimo e anche dell'eucharistia. Comunque scrive il fuoriuscire come sangue e acqua non è in effetti tanto della figura quanto piuttosto della stessa realtà nel differire da sé. Direi che questo è un pensiero molto molto interessante. Marco, tutto il libro ha una grande sensibilità di pensare il cristianesimo non come un blocco monolitico, un sistema del tutto chiuso in se stesso, ma proprio sta pensando il cristianesimo come grande avventura di una dischiusura, l'avventura di un fuoriuscire, di un differire da sé. Nel centro del pensiero di Marco c'è questa figura della differenza. che è per questo così valorosa, perché è una figura che implica anche l'alterità, che implica anche l'ospitalità, perché c'è sempre un momento aperto, e soprattutto è una figura che si rende conto di due grandi sfide. Da un lato che oggi per la Chiesa, ma per tanti di noi, è diventato più o meno impossibile di di divenire una cosa del tutto tonda, una cosa che è quasi in sé perfetta, in sé, diciamo, senza rotture, senza scissioni. E questo testo cerca di dare valore a questa esperienza che trova già nel Vangelo, che c'è una fragilità, una vulnerabilità e anche una pluralità che rende più aperto il nostro mondo. Certo, lo rende anche qualche volta molto più difficile, forse più difficile, anche se ci si può chiedere se è così facile, diciamo, il dovere sempre rappresentare il perfetto, il questo che non falisce, eccetera. E qui si vede una sensibilità enorme di questi, diciamo, pezzi che non sono solo frantumati, ma che in un certo senso danno la figura di un mosaico, un mosaico che è proprio aperto per nuove esperienze e in questo senso anche questo fuoriuscire vuol dire che il testo non è mai soddisfatto, non è mai completato in sé. Si può pensare anche alla lettera che San Paolo ha scritto ai Colossei quando dice io aggiungo alle ferite di Gesù questo che non c'è nel corpo di Gesù e anche qui si vede proprio il coinvolgimento di ciascuno di noi, anche se fragile, di fare parte in questo mosaico. e questo mi sembra una cosa molto bella della dischiusura in tutto il testo di Marco. E anche la soglia è questa seconda grande figura che sta sviluppando qui in dialogo con Giorgio Agamben, non è semplicemente la soglia che ci porta da un livello all'altro. Ma è proprio una soglia nel senso che non appartiene né da un parte né dall'altra parte, ma è quasi una soglia ospitale in cui proprio c'è una dimensione che si sottrae a queste definizioni, a queste cose, a questa vista che ci ha sempre già integrato in sistemi, in realtà che sono già scondate e in questo senso anche qui è quasi la soglia, diviene una forma speciale della dischiusura. Io poi voglio anche chiudere con un'ultima osservazione. La bellezza è Marco, diciamo, non scrive un manuale. Il libro è molto ben strutturato, ma non scrive un manuale. Ma sono tantissimi mosaici, direi, e tantissime osservazioni molto molto valorose, e secondo me alcuni non si trovano neanche nella esegesi della Bibbia, che proprio possono arricchire la nostra lettura. Io, e così voglio finire, ho imparato tanto, perché questo tema generale del Gesù, corpo aperto, che proprio ci invita e che dà un'apertura anche ontologica sul mondo, che Marco identifica già nel primo capitolo, dove questo testo di Giovanni si riferisce alla Genesi, alla visione di Giacove, quando il cielo si squarcia, quando si apre. Proprio il capitolo 19, l'apertura del corpo di Gesù, e questo come tema centrale, e anche il collegamento con il cielo, con il corpo, con il coinvolgimento di noi, con tutta la fragilità, è una cosa che io potevo approfondire, partendo dalle idee anche di Marco. Grazie. Marco che ha scritto questo e pubblicato questo libro. Grazie mille, Kurt, grazie davvero. Lasciare subito la parola a Marcello, Marcello Neri. Anch'io vi ringrazio per questo invito, per essere qua, ringrazio Marco, per aver scritto questo libro e averci faticato per degli anni. questo è un investimento di passioni, di attenzione e chiede anche, tanti tra voi che siete i suoi amici, un po' di ascesi rispetto a... prende tempo pensare e lavorare su questi temi. Quindi c'è tanto anche di umano, non solo di Marco in questo testo, ma di tutti coloro che hanno accompagnato questi anni, hanno accompagnato il suo cammino personale di ministero teologico e ministero presiditerale. Quindi credo che chi ha scritto un dottorato sa quante mani e quanto pensiero convergono e formano una comunità. e questo credo che sia uno degli esiti più belli di questo lavoro. Nel lavoro si vede, si vede questa capacità non servile di ospitare, ascoltare, entrare in relazione, avere il coraggio anche di smarcarsi da quelli che possono essere pensieri o figure di riferimento. Quindi sicuramente, come diceva Kurt, un testo inusuale sicuramente sul panorama della teologia italiana, ma più ampiamente credo anche sul panorama della teologia europea. Kurt ha detto tutte le cose più importanti, io mi invito a fare alcune osservazioni, poi dopo a... potremmo approfondire anche nel corso del dibattito, del dialogo insieme. La prima cosa, appunto, e che Kurt ha già accennato e approfondito è che le scritture sono un luogo di generazione anche di generazione del pensiero, di generazione di immaginazione e sono un luogo aperto nel senso che pur essendo il testo sacro di una comunità religiosa, per la vicenda particolare del cristianesimo, almeno in occidente, questo testo è esondato da sé ed è stato appropriato, rielaborato, riscritto, appunto, ricordo anche in ambito letterario il tema delle riscritture bibliche. Ce ne sono tantissime, no? Quindi queste divagazioni di un testo che non è geloso di se stesso e davanti forse a una comunità che ha pensato poi appunto l'istituzione ecclesiale questa non gelosia del testo come un problema, come una cosa da controllare, in qualche modo da arginare, da tenere sotto d'occhio, ma appunto è per la storia della civilizzazione occidentale è un testo che è scappato di mano fin dall'inizio, prima la comunità che li ha generati i testi e poi pian piano anche all'istituzione che ha cercato di costruirli attorno in grande recinto. Credo che questa dimensione delle scritture come genesi di pensiero, genesi di orizzonti, piene anche di contraddizioni, la Bibbia non è univoca, i luoghi di contraddizione, di allontanamento da quello che poteva sembrare un canone diciamo così costituito sono tantissimi e anche con una grande capacità appunto di è un testo soprattutto ma anche il nuovo è un testo scritto a partire dall'esperienza vissuta, provata, riscritta, riscritta, confrontata eccetera per cui anche come dire davanti all'affermazione di un monoteismo più rigoroso eccetera eccetera per esempio il deuteronomio è intriso di elementi che giungono dall'esperienza da cui esce Israele ed è così che la Bibbia dovrebbe funzionare anche per la Chiesa e qua invece mi ritrovo trovo un po' di difficoltà cioè non credo che riusciamo a far funzionare la Bibbia nel pensiero teologico e nel pensiero ecclesiale come questa sovrabbondanza che continuamente sfugge di mano sfugge a se stessa che non può essere ridotta a codici univoci eccetera con questo appunto col fatto che come Marco mostra ma anche come la Bibbia vive di nessi emeticiamenti culturali è un libro oscurio è un libro potremmo dire cosmopolita da un certo punto di vista e quindi perché è un libro che appunto si impatta costantemente sulla realtà sulle cose che sono sul tempo che c'è e questo a mio avviso appunto dovrebbe liberare molta libertà e fantasia nell'esercizio teologico perché come dire se il nostro testo di riferimento il nostro testo canonico si permette queste libertà appunto dato la sua sacralità tutto quello che viene dopo che è impresa ben minore può godere e assorbire di questa liberalità e spaziamenti del testo biblico il secondo punto e poi vado anch'io verso la conclusione Marco lo accenna nell'ultima parte del suo libro rispetto al come dire a questo percorso in riferimento all'organizzazione proprio del sapere teologico possibile credo che sia così intitoletto e questo chiama in causa l'organizzazione il curricula degli studi teologici che ha avuto una sua pertinenza una sua ragione d'essere accompagnato la chiesa ma anche la cultura per lunghe stagioni in maniera significativa e importante ma oggi sinceramente appunto Kurt dice questo non è un manuale non lo è è un saggio ponderoso che non ha casa attualmente nell'ossatura nell'impalcatura degli studi teologici così come sono non trova ospitalità cioè non trova corrispondente appunto un masso errante che attraversa come una meterea il cielo della teologia bello 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 buono c'è tantissimo per ricominciare a lavorare sulla reciprocità di cristianesimo e contemporaneità però non lo fai entrare in nessuno dei corsi dei moduli che abbiamo che abbiamo contemporaneamente e questo credo che insomma se anche vogliamo fare teologia per non come unicamente come disciplina arcana di un gruppetto sempre più piccolo di appartenenti a una qualche cerchia la revisione del curriculum teologico il ripensamento probabilmente oggi la teologia bisogna farla fuori dallo schema facoltà almeno per l'Italia mi sembra che dovendo rimanere dentro quello schema si esauriscono anche le forze migliori e questo però questo pone un grosso problema appunto verso dove come ecco abbiamo pochissimi per esempio come è organizzato il corpus il corpus curricolare italiano abbiamo pochissimi anche seminari possibilità di lanciare esplorare vagare su sentieri nuovi per ridisegnare l'impianto teologico non per arrivare a nuova sistematizzazione perché quella non è possibile credo cioè è finito anche il tempo dei manuali che aveva senso scrivere oggi non si può più scrivere un manuale di nessuna disciplina teologica se non perché può servire da bigino ai poi studenti o perché se hai tanti studenti la casa editrice contenta no questo è semplicemente un secondo secondo orizzonte chiudo invece con con questo non una domanda ma una magari un doppio orizzonte di possiamo anche discutere da un lato la categoria del messianico attraversa dall'inizio alla fine il il pensiero di Marco da buon allievo di Kurt ma è una categoria che lui ha assunto ben prima di andare a Vienna con i suoi studi su Rosenzai e questa attenzione anche alla cultura e il pensiero ebraico la cosa che ti chiederei se forse è possibile un pochettino così di o comunque mi fa pensare mi piacerebbe sentire la sua posizione è come si declina la dimensione messianica con quella istituzionale perché se l'istituzione appunto ha lavorato per come dire esaurire il messianico un messianico solo che vorrebbe dire un'istituzione assolutamente corrispondente al Vangelo è una sorta di probabilmente la forma più spinta di totalitarismo stando nel tempo della storia questo è un attimino e dall'altro lato anche con in questa così orizzonte di Agamben come come rientra Agamben appunto io non sono uno studioso come Kurt e Markman è un pensiero fortemente antistituzionale da un certo punto di vista e però appunto anche anche poi per il perimento delle questioni innanzi questo tema della comunità del comune eccetera sono comunque forme che hanno dei principi istituenti ecco anche quello come come lo si può declinare costruttivamente nei confronti eventualmente in quell'istituzione che chiamiamo chiesa grazie dell'ascolto grazie Marcello Marco intanto intanto sento proprio di voglia ringraziare Marcello e Kurt in prima battuta per questo loro intervento per la loro amicizia insomma per essersi offerti a dare un così un massaggio un primo carotaggio in questo testo insieme a loro due anche a te Fabrizio a te Valentina per questa ospitata ma insieme anche a tutte a tutti voi che siete qui presenti siete tanti tante quindi io insomma vi saluto una a uno ecco una a una con molto piacere e con tanta emozione che ecco in questo momento forse mi impedisce un po' anche di essere lucido quindi lo sono già poco di solito adesso ancora meno ma comunque ecco così prendendo un po' spunto dalle anche dalle provocazioni di Marcello adesso ecco sì in effetti il testo vorrebbe proprio giocare un po' su questa tensione no? su questo continuo gioco potremmo dire tensione gioco tra la dimensione ineliminabile direi insomma dell'istituzionale e direi anche graziosamente ineliminabile mi verrebbe da dire da un certo punto di vista per quanto chi mi conosce non sono proprio un patito dell'istituzione insomma ecco ma la ritengo comunque un elemento diciamo così necessario ecco se vogliamo dire così non sufficiente no? ecco da una parte questa dimensione qui quindi che accompagna il testo nelle varie fasi potremmo dire e la parte messianica a cui io diciamo ho legato anche la figura della soglia se vogliamo dire così ecco si potrebbe anche dire in questi termini per ritornare al testo in modo più diretto direi la dialettica tra le due figure che non si esauriscono ma si implicano a cui implicano vicendevolmente è proprio quella tra una dischiusura che potremmo diciamo così associare al tema dell'istituzionale al tema della religione come istituzione e il messianico che in qualche modo disattiva ogni volta l'arroganza tra virgoletto o il potere fino a se stesso di questa dimensione che invece è chiamata a servire in un certo modo si potrebbe dire così quindi la soglia sarebbe proprio quel disinnesco costante continuo e quell'uscire fuori da che dovrebbe essere in qualche modo il servizio della religione o comunque dell'istituzione della religione come istituzione allora ecco ogni volta è come se tutte le volte si ripresentassi il gioco tra Vangelo e in fondo è istituzione è istituzione ecclesiale istituzione nelle sue varie forme è come se fosse irriducibile ma nello stesso tempo coimplicante entrambe le figure per cui ecco il punto diciamo di caduta è quando nella storia succede spesso la soglia diventa solo un passaggio e e quindi scompare immediatamente per lasciare il posto solo alla dischiusura per cui dischiusura in questo senso è solo istituzione solo un vedere che però tiene a distanza e non ospita solo un un come dire un permettere in qualche modo di di vedere quindi di sapere di tenere di controllare vorrei dire lì tutti insieme tutti in fila come luoghi in qualche modo che costituiscono un modo di essere anche un potere facendo in modo che appunto la soglia venga come depotenziata del suo proprio che è quella di essere luogo di ospitalità come diceva Kurt all'inizio il luogo dove scompaiono dove le differenze si tengono ma nello stesso tempo non si come dire non si non vanno in guerra ecco non si scontrano si contengono si coinplicano si si guardano si annusano si scoprono si riconoscono è il luogo del riconoscimento ecco è il luogo dove e quindi della massima vulnerabilità e quindi del messianico come figura appunto eminente paradigmatica di tutto questo ecco nel testo diciamo direi tornano continuamente che ho riproposte in varie forme su vari declinati in vari su vari piani ecco giocando un po' col Vangelo di Giovanni che ho ritenuto in questo senso più adatto proprio a giocare in risponda su questo piano qua non so se ho detto se ho risposto ma mi sembrava ecco di poter dire questo grazie mille Marco e allora io direi siete d'accordo non so Marco se può funzionare abbiamo una ventina di minuti e possiamo lasciarci la parola vicenda molto liberamente e quindi chi vuole intervenire domandare direi che c'è direi che c'è spazio a voi la parola ma dunque c'era una mano alzata da Gina da tempo non so se se sia ancora significativa o se invece era rimasta lì Giovannoni vedo sì esatto quindi se Gina non ci dice niente allora io chiederei di intervenire a Marco Giovannoni sì grazie grazie della della parola spero di non essere totalmente fuori tema ma solo solo un poco diciamo perché c'è la provocazione di Marcello che la sento come riguardante come penso riguardi quanti di noi a vario titolo sono legati alle istituzioni dove si fa tecnologia in Europa insomma lo stesso Marco ecco perché mi vedrebbe da essere un po' drastico la provocazione di Marcello dico sulla teologia su quanto la teologia sia capace di la domanda è radicale quanto la teologia sia capace di recepire la rivelazione come 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 soglia e non come dischiusura poi alla fine mi sembra la domanda molto molto radicale e la riflessione che spero voglio dire molto rapidamente e spero anche precisamente che mi sembra che se la teologia non è in grado di respirare nel senso sfidei del popolo di Dio che è un senso di ortoprassi sicuramente non si non si rischiude però questa è una cosa che sappiamo molto bene dagli anni sessanta a me sembra che la domanda sia più radicale a questo punto e ci richiama all'ortoprassi cioè mi sembra che la questione è se l'Europa ecclesiale sia capace di ortoprassi cioè di recepire la parola in maniera profetica la parola del Vangelo nella questione dei poveri degli oppressi nella questione ecologica nella questione della pace e se è in grado di recepirla in una dinamica di dialogo interreligioso se è in grado di recepire queste questioni in una dinamica interreligioso mi sembra che questa domanda traduca forse un pochino di più il dramma diciamo della teologia europea e appeggiorare le cose è secondo me chi è chiamato a raccogliere la sfida perché è chiamato a raccogliere la sfida con Fabrizio si usa un po' sempre questa parola residuale cioè un resto cioè categorie residuali destinate a come dire diventare sempre meno significative almeno in Italia sono i futuri preti e i futuri insegnanti di religione perché dico che questo potrebbe essere un problema non perché queste persone ovviamente non siano una risorsa preziosissima e da accogliere con gioia e riconoscenza insomma ma perché non stanno nella soglia come dire non gli è richiesto di starci ecco allora io penso per rispondere alla provocazione di Marcello che probabilmente la domanda delle istituzioni teologiche è come far spazio al loro interno in maniera non episodica e straordinaria ma ordinaria a persone che non sono questo tipo di categorie ed è ovvio che bisogna porsi domande diverse e fare anche offerte diverse insomma io la sfida ecco la vedo così e mi scuso se ho parlato troppo non so se per caso Marcello Marco Kurt volete in qualche modo reagire a questa riflessione di Marco sì appunto mi sento è la percezione del sintomo e della situazione di nuovo per usare una categoria di Marco almeno la mia impressione è che la teologia debba uscire dalla sua impalcatura per dall'impalcatura quella che è come dire istituita per per essere se stessa quindi per non ridursi a un'irrilevanza sempre maggiore e per assolvere anche il suo compito di mettere la forma teologica del pensiero all'interno del dibattito contemporaneo della cultura e dall'altro lato appunto deve essere secondo me come diceva Marco una non può più essere una teologia che prescinde dalle pratiche e le pratiche non sono dei punti di applicazione ma rivestono hanno in loro stesse una dimensione appunto anche teologica a me viene in mente che magari poi anche Curci può dire una cosa cioè anche il cammino fatto a Vienna col centro di ricerca su religione trasformazione è stato fatto appunto per far uscire per dare un contenitore nel quale la teologia potesse continuare ad avere una rilevanza accademica culturale politica eccetera in Italia però siamo fermi anche da tante parti in Europa questa è un po' l'impressione sono sono d'accordo con le cose che avete detto penso che c'è il pericolo che la teologia diviene una forma di zoo diciamo come come i seminari diciamo si può come si può osservare i quala si può i panda si può anche osservare gli ultimi seminaristi e devono essere protetti dal virus della modernità e così li mettiamo in una gabbia e questa gabbia potrebbe essere la teologia ma dall'altro naturalmente si deve anche dire che abbiamo una teologia forse molto molto che risponde a domande che nessuno si pone più dall'altro quando si guarda al sistema universitario non è molto più illuminante in tanti aspetti penso che abbiamo bisogno nelle nostre società una ricerca che proprio parte dall'esperienza dell'umano è una ricerca che ha bisogno di tantissime voci dove potrebbe o dovrebbe anche fare parte la teologia anche senza e questa è la precondizione senza pretesa di egemonia e questo l'altro aspetto bello di questo libro che non ha questa pretesa e questo mi sembra la via la via del futuro vediamo se sarà possibile comunque nella forma che la teologia oggi ha poco futuro e qui sono molto sono molto d'accordo abbiamo bisogno sempre l'altro da se stesso e per troppo tempo l'alterità della teologia era la teologia è così è un deficit ma solo come già detto anche anche le scienze umane devono rendersi conto che questo che Marco ha accenato con la soglia che che non ci sono più i territori chiari qui il mondo laico qui il mondo religioso qui la teologia qui la filosofia qui la chiesa e qui non so siamo in un in un grande flusso anche in una pluralità di identità qualche volta anche nella stessa nella stessa persona e penso che su questa esperienza sia da da rispondere e non solo il tuo dottorato Marco ma mi sembra un po' la realtà del vostro istituto di Rimini cerca con tutti i limiti che naturalmente ci sono dare risposta anche il centro di ricerca che io sto dirigendo nella università di Vienna è un centro interdisciplinario dove sono insieme tante materie e cerca un po' di vivere questa visione ma anche io qualche volta sono di fronte a una teologia che ha poca comprensione per questo fuori di sé Marco vuoi aggiungere qualcosa ma io lascerei solo questo ecco mi trovo sicuramente molto d'accordo con le cose con le osservazioni diciamo le indicazioni date scusate il telefono ma ecco sì ritengo che appunto la teologia alla scuola della fede che in qualche modo indaga e approfondisce ecco dovrebbe potersi muovere con la stessa dinamica sulla stessa direttrice quindi se la fede è un'esposizione di sé all'altro a partire da una fiducia incondizionata nell'affidabile potremmo dire la teologia non può diciamo muoversi diversamente ecco non può tra virgolette semplicemente istituirsi no? è chiamata da questa istituzione sempre nuovamente in qualche modo muoversi oltre sé oltre sempre come oltre fuori sì fuori di sé appunto quindi se questo è il movimento della fede credo che sia necessario che la teologia riscopra questo movimento altrettanto no? quindi sì in fondo l'essere in uscita che il Papa più volte richiama potremmo dire ha anche questo risvolto Marco posso chiederti una cosa perché se non è difficile se non è difficile è molto difficile perché è scritto nel tuo libro ma comunque no mi sembrava un pensiero molto molto bello è uno dei tanti e questa figura di San Tommaso del del gemello mi sembra anche molto tipica il tuo sguardo su questa figura per tante altre cose puoi raccontarci qualcosa su questa figura qui ci sono dei biblisti davanti a me io temo no ma diciamo mi ha colpito il fatto che il termine utilizzato per disegnare questo personaggio sia in qualche modo la traduzione greca no di quello che significa poi appunto in ebraico gemello quindi diciamo così mi ha colpito il fatto che la figura una delle figure diciamo importanti no o portanti anche proprio del testo giovaneo di che appunto di essere gemello di qualcun altro potremmo dire di chi ecco di chi è gemello in fondo l'essere gemelli è sì essere fratelli ma anche altro anche altro quindi questa questa figura in un punto così strategico della 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 trama giovanea fa pensare appunto che il rilievo lasciato proprio a lui e ai suoi movimenti al suo dire e al suo alla sua posizione teologica diciamo narrativa e teologica dica appunto di una di un essere diciamo lo avvicina molto ecco alla figura della soglia in qualche misura non solo perché mette il dito tra virgolette diciamo muove verso il costato di Gesù ma anche perché dice che c'è una c'è altro di sé che in qualche modo gli è legato quindi potremmo dire ripropone in qualche misura in modo simbolico la necessità di altri da sé ecco un'implicazione sempre di altri da sé un essere potremmo dirla con mai senza l'altro ecco mai senza il proprio gemello chi è il gemello potremmo dire la comunità potrebbe essere potrebbe essere il lettore la lettrice potrebbero essere tutti coloro che in qualche modo sono convocati nella lettura e diciamo nella comprensione del testo e di cui ecco egli si fa come in qualche modo l'ospite in un certo senso nella sua posizione ecco invitando a posizionarsi dove si posiziona lui che è in fondo la posizione della fede apostolica compiuta piena vedo che abbiamo qualche minuto c'è spazio forse per un altro intervento un'altra domanda mi pare che siano emerse delle cose davvero molto importanti però penso che ci sia un attimo di spazio quindi non so se posso dire una cosa al direttore chiedere una cosa al direttore anche Marco ma sì velocemente oltre alla valutazione giovanea e tutta la profondità delle relazioni precedenti sapere se c'è anche una componente la crepa dell'essere e in questo essere che in questa società trova grossi ostacoli a raggiungere il proprio trascendenza dunque non ho forse non ho capito tutta la domanda diciamo ecco una componente del periano sì beh Heidegger diciamo dentro a questo racconto indubbiamente si affaccia più di una volta ecco direi non lo metterei sotto diciamo non lo sotto il riflettore no direi non tanto sotto il riflettore ma non lo metterei sotto il segno della soglia ma piuttosto semmai forse nell'altro sull'altro versante ecco come una delle più lucide diciamo con uno degli sguardi più lucidi in qualche misura nel tratteggiare cos'è di schiusura sostanzialmente quindi cos'è il luogo di una di una di un vedere che riconosce ma diciamo che non può non può assumersi il rischio no della del con potremmo dire dell'essere con quindi il rischio in qualche modo dell'altro in qualche modo si tiene sempre un po' a distanza ecco questo per quanto almeno potrei dire ecco riguardo alla convocazione di Heidegger anche se indubbiamente più di una volta torna nel testo sì grazie grazie a te prima prima di chiudere comunque il testo vale soprattutto per la copertina devo assolutamente ricordare che questa immagine viene da una delle monache qui presenti una scultrice artista e tante altre cose Elena Manganelli questo questa immagine volevo assolutamente non sono stato imbeccato no ecco la trovate appena billi dalle monache che sono qui collegate ed è uno dei tanti delle tante opere d'arte che potete trovare nel monastero di Pennabilli ma allora la domanda per concludere è questa perché è proprio questo perché è proprio questa immagine perché questa bella domanda in effetti è una bella domanda oltre ad essere una bellissima immagine di Gesù no è lecce uomo e diciamo da questo da questo sguardo dell'ecce uomo diciamo così da questa apertura dello dello sguardo dico ecco sono subito rimasto affascinato e colpito perché mi sembra che in questo sguardo nell'apertura anche dell'uomo dell'ecce uomo ci siano come dire siano contenute entrambe le figure no non in una confusione ma semmai proprio in una tensione generativa allora mi è sembrato il più rappresentativo almeno per quelli che io ho potuto così cercare guardare insomma potevo anche scegliere per dire un non so un qualcosa di più astratto no andando verso altri autori ma mi sembrava questo questa immagine potesse tenere dentro un po' in modo sintetico e simbolico tutto il il discorso del messianico in fondo alla fine grazie allora grazie a te grazie a tutti a Marco a Marcello a Kurt a tutti a tutti voi che siete presenti e lascerei la parola a Valentina credo che siano emersi dei temi molto chiave dal tema dell'aperto al tema del questa polarità tra soglia e di schiosura la questione posta prima da Marcello del messianico e poi questa questione credo che sia all'orizzonte del delle strutture dei compiti delle figure della teologia oggi e domani ma già domani pomeriggio credo e questo credo che sia davvero una questione molto 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 importante e bene grazie a tutti e a tutte lascio a Valentina sì ma io vi saluto soltanto dico che questa regola che ci siamo dati proprio in incontri come questa sera mi sembra che riveli la sua necessità perché quando delle appunto delle conversazioni diciamo si fanno così dense si potrebbe andare avanti per delle ore invece ovviamente questo non è possibile avere questo limite orario secondo me ci aiuta anche a essere più a mettere a fuoco io ho preso degli appunti degni di una stenografa perché veramente perché veramente sono uscite tante cose ovviamente sono cose che nascono dal libro di Marco però spero che Marco non me ne voglia se dico che sempre poi appunto quando si mettono in circolazione trovano un respiro e un'ampiezza con tributi diversi ed entrano appunto in quella vita in quella realtà che devono fecondare in effetti una cosa che mi colpisce anche è anche Marco ha partecipato ad altri di questi nostri incontri che giravano tutti intorno a libri nati dalla ricerca negli istituti superiori di scienze religiose mi colpisce che tornano alcuni temi in prospettive completamente diverse e questo ci dice torneranno io credo alcune delle cose che ci siamo dette questa sera anche giovedì prossimo ci incontreremo per parlare del libro di Don Fabrizio Rinaldi Antropologia teologica un libro completamente diverso con un'altra finalità ma è proprio per questo mi pare interessante che alcune linee attraversino evidentemente attraversano dal nostro presente tutto quello che in diverse forme in diversi modi stiamo facendo quindi insomma bello spero bello anche per voi che avete partecipato così numerosi vi ho messo nella chat il libro il link al sito diciamo di questo piccolo ciclo di appuntamenti perché lì poi caricheremo il video di questa presentazione appena sarà pronto così se volete ritornare su queste parole grazie tante a tutti grazie davvero a tutti a tutti